Musica 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 Fale un terrorista dai Intervista a Checco Oh intervista a Checco Allora No no intervisto io dai C'è due minuti Come si fa? Come si fa? Con questo? C'è due minuti Allora intervista Guardi la maglia piglia No ma con questo? Sei via già Siamo qui da Teleschianto Intervistiamo il campione regionale Delle Marche Checco Zandri Checco Zandri Dimmi com'è andata questa gara Come ti sei trovato La gara è andata bene per l'aiuto di Andrea Che ha fatto molto oggi per questa squadra Grazie Grazie molto Non piove Per ringraziare a Candy A Candy Per l'aiuto Non diciamo l'aiuto perché Dai Com'è andata la gara spiegaci Dai dai spiega Paolini vai via Abbiamo un Paolini Vada via La gara com'è andata cosa hai fatto Stata bene ho fatto quinto Dimmi com'è Siamo qui Siamo qui